Cambia ora l'edizione serale di MTG. Dal 3 ottobre andrà in onda alle 20.30. Nuova veste grafica, nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta. Le casse del libero consorzio comunale di Ragusa stanno per essere rimpinguate dai fondi regionali che di fatto cancelleranno i debiti pregressi, un modo per dare uno slancio all'intera macchina dell'ex provincia regionale. La storia di Rosanna Saraceno, una diversamente abile di Modica che denuncia di essere trasportata su mezzi obsoleti. E' stato il comune di Modica ad appaltarli e adesso i servizi sociali si stanno muovendo per contattare la gestione. I soldi per Modica, 6 milioni di euro. Questi fondi del patto per la Sicilia non hanno niente a che fare con i finanziamenti predisposti dall'assessorato regionale alle infrastrutture e comunicati dall'onorevole Orazio Raguse. Polemica in città. Dopo le lamentele dei genitori degli alunni della scuola materna Vittorino da Feltre a Monte Po a Catania, le lamentele dettate da erba alta, animali e scarse condizioni igieniche, arriva la risposta di Bianco. Nuova edizione del nostro telegiornale, benvenuti. Si tratta di vero e proprio ossigeno, così l'onorevole Nello Di Pasquale ha parlato dei fondi, nello specifico 25 milioni di euro da spalmare tra il territorio ragusano, siracusano ed ennese. Perché sono dei soldi che sono destinati a colmare i debiti dei liberi consorsi comunali e permettere agli stessi di ripartire in sostanza da zero. Ma trascorrerà ancora un mese. Il punto della situazione in questo servizio, dove tra l'altro abbiamo anche intervistato e contattato telefonicamente l'onorevole Nello Di Pasquale. L'assessore Bacce, il governo, sta disponendo dell'assessamento di bilancio un finanziamento di 25 milioni per le tre province. Questo metterà in condizione anche la provincia di Ragusa, l'ex provincia di Ragusa, di poter ripartire da zero e non ritrovarsi più in queste condizioni come ci siamo ritrovati. Una notizia che si aspettava da tempo e che nel volgere di un mese potrebbe essere realtà. 25 milioni per sanare i debiti e far rivartire i liberi consorsi comunali. Della somma da spalmare tra Ragusa, Siracusa ed Enna ne dà notizia l'onorevole Nello Di Pasquale. Come è facile intuire, la notizia è ufficiale ma ancora, come si apprende dagli uffici dei liberi consorsi comunali dell'isola, manca un documento che ne attesti l'arrivo. Nello specifico a Ragusa i fondi da destinare dovrebbero essere pari a 6 milioni e 200 mila euro. Rimane il problema legato ai tempi. Secondo l'onorevole Nello Di Pasquale occorrerà un mese, prima che la somma possa essere nelle disponibilità delle casse degli enti. La bozza di assestamento, infatti, andrà in commissione la prossima settimana, per poi passare all'arse per l'approvazione definitiva. Quindi sarà necessario circa un mese di tempo. I liberi consorsi comunali però sono al collasso e sono legittimi i dubbi del caso. Ragusa aveva già denunciato più volte che l'ente di Viale del Fante non aveva più ossigeno e che il mese di ottobre sarebbe stato un lontano miraggio, in quanto il baratro del dissesto era, e di fatto, molto vicino. Qualcosa però adesso si smuove e la comunicazione dell'onorevole Nello Di Pasquale apre a nuovi scenari e soprattutto porta alla speranza che si spera diventi concreta realtà nel volgere di un mese. Con questo intervento di 25 milioni di euro noi saniamo tutto il passato, il fregresso, l'avanzo non applicato e quindi finalmente ripartiremo senza nessun tipo di problema e quindi per il futuro oggi sarà questo problema. E' pronto il piano per garantire i fondi a sostegno degli studenti disabili. Ad annunciarlo è la senatrice Padua che ha incontrato gli assessori regionali Baccei e Marziano. Erogare i fondi necessari per il trasporto e l'assistenza degli studenti disabili degli istituti superiori nell'assestamento di bilancio che la Regione effettuerà in questi giorni. Misura transitoria necessaria per sopperire all'attuale emergenza. E' questa una delle soluzioni lanciate dalla senatrice del PD Venera Padua dopo un colloquio telefonico con gli assessori regionali Baccei e Marziano. I due amministratori hanno infatti garantito che è pronto il piano per garantire i fondi a sostegno degli studenti disabili che hanno il diritto allo studio così come sancito anche dalla Costituzione. L'altra misura individuata è di carattere strutturale, ossia definire i fondi sempre a Palermo da inserire nel bilancio 2017 e che assicureranno il servizio per tutto il prossimo anno. Tra l'altro è ancora aperto un bando presso l'assessorato all'istruzione e formazione con somme rese disponibili dalla Regione a cui possono accedere i genitori degli studenti disabili per ottenere, inoltrando richiesta al commissario del libero consorzio comunale o ai sindaci, le risorse economiche necessarie al rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasporto. Attualmente, ribadisce la Padua, sono questi gli strumenti a disposizione. Intanto i familiari degli studenti, le associazioni e il forum terzo settore si stanno preparando per la grande mobilitazione prevista per domani pomeriggio a Ragusa. L'ANFAS in una nota parla di situazione paradossale e platealmente illecita rispetto alle leggi italiane al disposto della Convenzione internazionale delle persone con disabilità e dalla dignità stessa. Nessun conforto si evidenzia nel documento neanche rispetto al recente riparto di risorse erogata dalla Regione agli enti locali che hanno assegnato cifre così esigue da non poter soddisfare l'erogazione dei servizi per qualche mese se non addirittura per qualche giorno, non garantendo alcuna continuità scolastica. Parliamo adesso di una storia che arriva da Modica e che vede come protagonista una donna, Rosanna Saraceno, che ha contattato la nostra redazione per denunciare un caso davvero sconcertante. Sentiamo. Mezzi di trasporto obsoleti arrugginiti e contetti ridotti a colabrodo. È la denuncia che arriva da Rosanna Saraceno, affetta da sclerosi multipla, che due volte a settimana si rega al CSR di Modica per la riabilitazione. La donna, inoltre, qualche giorno fa, scendendo dalla scaletta del pulmino che è arrugginita, si è ferita ad una gamba. I medici del pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica le hanno dato una prognosi di cinque giorni. Adesso lei sta valutando di intraprendere le vie legali. Il comune di Modica è il responsabile del trasporto dei diversamente abili presso queste strutture. Il servizio, tuttavia, è stato dato in appalto ad un'azienda privata di bagheria che ha partecipato al bando di gara e l'ha vinto. Una situazione è quella dei disservizi che vengono riscontrati dagli utenti, già sollevate in passato dagli stessi ai servizi sociali, ma ad oggi la situazione pare essere precipitata. Sono tante, infatti, le mamme dei bambini che usufruiscono del servizio che hanno scelto di avviare una petizione per manifestare il loro malcontento. Oggi la signora Saraceno si è rivolta alla nostra redazione per raccontare quanto le è accaduto. Non è un pulmino, è idoneo, è al servizio, è diversamente abile, la pedana non funziona, l'assistente è tanto gentile, ti aiuta, però quanto può essere gentile, se il mezzo è tutto arrugginito, non è idoneo, se piove oltretutto entra anche l'acqua dentro il pulmino, dove siamo? Neanche gli animali vengono trasportati in questa maniera, scusate. Più volte l'autista e l'assistente hanno segnalato questo problema. Ora, la scorsa settimana già la pedana, mesi addietro, la pedana la dovevano uscire manualmente, adesso invece neanche manualmente, adesso c'è tutta la parte arrugginita, che io la scorsa settimana mi sono infortunata e ho avuto cinque giorni di prognosi. Io ho già i miei problemi, perché mi devo comportare altri problemi, per il disservizio, per gli altri che se ne fregano, perché questo è fregarsene. Intanto l'assessorato ai servizi sociali del comune di Modica, contattato da noi telefonicamente, ha garantito di aver già richiesto all'azienda di Bagaria un altro mezzo di trasporto, in quanto si sono registrati anche numerosi ritardi. Inoltre, il titolare dell'azienda è stato più volte convocato da Palazzo San Domenico. Ma ad oggi ancora nessuna risposta è arrivata agli utenti. Intanto la signora Saraceno, la donna che avete visto nell'intervista a Pocanzi, ha formalizzato nel pomeriggio di oggi una querela contro ignoti negli uffici della caserma dei carabinieri di Modica. Darne notizia sono proprio i militari dell'arma della compagnia di Modica che hanno ricevuto la donna nel pomeriggio di oggi. Incidente stradale sulla SP4, la comiso Gran Michele, due i mezzi coinvolti, tre i feriti. Fortunatamente si tratta di ferite lievi e non sarebbero in preoccupanti condizioni di salute, secondo quanto si apprende dalla Polizia Provinciale. Quest'ultima è presente sul posto per i rilievi. E adesso parliamo dei 6 milioni di euro che arriveranno alla città di Modica. Questi fondi del patto per la Sicilia non hanno niente a che fare con i finanziamenti predisposti dall'assessorato regionale alle infrastrutture e comunicati dall'onorevole Orazio Ragusa. Su questa vicenda infatti c'è un po' di confusione. I finanziamenti di cui parla l'onorevole Orazio Ragusa e quelli di cui parla il sindaco Abate sono rivolti ad interventi completamente diversi. Ascoltiamo il servizio del direttore Catiuscia Carpentieri. In questi giorni si è sollevato un polverone mediatico per quanto concerne i finanziamenti previsti nel patto per la Sicilia e indirizzati alla provincia di Ragusa. Ebbene, è meglio fare chiarezza sui 6 milioni di euro circa in arrivo alla città di Modica. Andiamo con ordine. Lo scorso 24 settembre il deputato regionale dell'Udc Orazio Ragusa aveva divulgato, con una nota stampa, l'arrivo di 7,2 milioni di euro, fondi dell'assessorato regionale alle infrastrutture per la provincia Iblea. Questi soldi servono esclusivamente per interventi di consolidamento in edifici di interesse ricadenti nel centro storico. Tra i comuni che beneficeranno di questi soldi, manca l'appello quello di Modica. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, ieri divulga un comunicato stampa scrivendo Patto per la Sicilia, quasi 6 milioni in arrivo per Modica. Altro che esclusa, Modica è una delle città che riceverà più fondi dal patto per la Sicilia. L'arrivo dei soldi ad Abate viene comunicato dal presidente della regione, Rosario Crocetta. E qui casca l'asino, perché il sindaco Abate non ha precisato nella sua nota stampa che i finanziamenti in arrivo non sono gli stessi di cui parlava l'onorevole Orazio Ragusa, ma sono soldi che serviranno solo ed esclusivamente alla riqualificazione e messa in sicurezza delle strade dell'agglomerato industriale di Modica, ed ancora per la pubblica illuminazione, e per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade. Dunque non sono i finanziamenti destinati invece al consolidamento di edifici di interesse ricadenti nel centro storico, di cui invece parlava l'onorevole Ragusa. Il comune di Modica dunque è stato escluso e come? Perché non ha partecipato al bando pubblico di gara emanato il 16 aprile del 2015 per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della regione siciliana, è firmato dal dirigente generale Fulvio Bellomo. Dunque sono due cose distinte e separate, i soldi che arriveranno alla città di Modica non sono quelli di cui parlava l'onorevole Ragusa, e dunque la città di Modica è stata esclusa dai finanziamenti dei fondi dell'assessorato regionale alle infrastrutture, che ribadiamo sono rivolti solo ed esclusivamente al consolidamento degli edifici di interesse ricadenti nei centri storici. I 6 milioni di euro invece, che arriveranno a Modica e di cui ha parlato il sindaco Abbate, sono solo ed esclusivamente soldi del patto per la Sicilia, ma che saranno destinati a progetti cantierabili per riqualificare le strade e la pubblica illuminazione, e non dunque gli edifici del centro storico, al cui bando, ricordiamo ancora una volta, il comune di Modica non ha partecipato nell'aprile del 2015. E continuiamo a parlare del patto per la Sicilia. Pregherei infatti la regia di spostare l'immagine di nuovo su Ignazio Abbate, con un'ultima ora appena giunta alla nostra redazione, perché arriva infatti una nota del sindaco che va forse anche ad aumentare ancora di più la confusione. Allora, patto per la Sicilia per Modica, dopo i 5 milioni e 637 mila euro di ieri dal settore sviluppo economico e attività produttive, oggi ne sono arrivati ulteriori. Così il sindaco di Modica. Infatti sono in arrivo oltre 1 milione e 100 mila euro alle casse comunali di Modica per Cava Ispica, provenienti dal settore turismo e cultura. I fondi sono destinati alla realizzazione e ripristino del parco di Cava d'Ispica, alla valorizzazione del sito e al completamento del restauro del castello di Baravitalla. Sottolineiamo che questi fondi provengono dal settore turismo e cultura, così come sottolinea il primo cittadino, Ignazio Abbate, riferendosi a questo nuovo stralcio di fondi che verranno destinati al comune di Modica, provenienti dal patto per la Sicilia. Adesso continuiamo con il nostro telegiornale. Il sindaco di Acate, Franco Raffo, resta in carica. Non passa infatti la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione. 8 i voti a favore e 2 i contrari. I consiglieri di minoranza non riescono quindi a raggiungere il quorum previsto dall'ordinamento degli enti locali necessari per sfiduciare il primo cittadino. In aula ieri sera erano presenti solo 10 consiglieri, tra cui Gallo Eterno, e a rappresentare la maggioranza. Franco Raffo resta dunque in carica e ha annunciato un comizio per domenica prossima, nel corso del quale racconterà la sua verità ai cittadini. Consiglio comunale ieri sera a Modica, dedicato alla question time, intanto si è dimesso da capogruppo del PD Carmelo Cerruto, la nuova capogruppo è Ivana Castello. E Ivana Castello è il nuovo capogruppo del PD in consiglio comunale a Modica. L'ufficialità è avvenuta ieri sera in consiglio comunale. La Castello succede a Carmelo Cerruto. La Civi Cassisi ha poi bocciato con 9 voti favorevoli e 9 astenuti la mozione presentata dal gruppo del PD sulla riqualificazione dei parchi gioco. Di conseguenza, subito dopo la votazione, i consiglieri dell'opposizione hanno lasciato l'aula facendo mancare il numero legale, mentre il punto sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene approvato con 10 voti favorevoli, un contrario e un astenuto. Ad inizio dei lavori prende la parola il presidente Garaffa, che ha comunicato che il prossimo 7 ottobre sarà convocato un consiglio comunale per discutere sulla relazione della Corte dei Conti, inviata al Sindaco, ed un altro consiglio con all'ordine del giorno l'adesione al gruppo di azione costiera. Si ritorna a parlare in consiglio poi di due fascicoli relativi al bivio di Contrada Serrapero, dove è stata realizzata una rotatoria e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Due fascicoli che ad oggi è stato detto in aula non sono a disposizione dei consiglieri comunali. Il presidente Garaffa su questi due punti ha risposto che i fascicoli sono stati depositati, invitando il segretario generale a darne notizia, mentre l'assessore all'urbanistica ha detto che i fascicoli sono a disposizione dei consiglieri comunali negli uffici competenti. Prende poi la parola la consigliera Castello, che evidenzia come non è stato possibile recuperare un atto del 2013, evidenziando come il comune di Modica ha perso 10 anni di documentazione e nonostante però ci siano le carte nei fascicoli, non si sa dove sono. Il consiglio si è poi dedicato alla question time con un'interrogazione del PD sul PRG, in quanto non c'è di fatto una programmazione del territorio. L'assessore Belluardo su questo punto ribadisce che tutta la procedura è stata seguita. Altra interrogazione presentata da Spadaro riguarda il parcheggio su un terreno già scerbato vicino la chiesa di Santa Maria del Gesù a Modica Alta, utile per il servizio sia della scuola sia per turisti. L'amministrazione per questo ha chiesto alla sovrintendenza la possibilità di avere un affidamento del sito, che è stato concesso e si sta studiando il modo per renderlo fruibile attraverso un progetto. Interviene poi il consigliere D'Antona, che ha sollecitato l'assessore Belluardo a rispondere a due interrogazioni, una presentata nel novembre del 2015 e l'altra all'agosto scorso, invitando il presidente Garaffa di informare l'assessorato agli enti locali per quanto accaduto, chiedendo anche un'ispezione di merito. Belluardo dichiarato che entro oggi avrebbe consegnato le risposte alle interrogazioni. E da Modica ci spostiamo in territorio etneo, a Catania, dove si è tenuta questa mattina la seduta itinerante dei consiglieri della quarta municipalità che da tempo chiedono l'intervento dell'amministrazione per sottoporre le difficili condizioni del cimitero di San Giovanni Galermo. Ce ne parla Sara Donzuso. Rischi allagamenti quando piove, loculi scoperti e barce alte, fontanelle rotte, liquami che fuoriescono, fili della corrente elettrica lasciati liberi, con la conseguenza che quando si usa il decespugliatore essi vengono tranciati lasciando il cimitero al buio. Sono questi alcuni dei problemi che vengono denunciati dai consiglieri della quarta municipalità di Catania in relazione alla Camposanto di San Giovanni Galermo, consiglieri che da tempo chiedono l'intervento all'amministrazione comunale. A causa dei fili che fuoriescono viene anche fatta una pulizia non ottimale, quindi bisogna ripristinare immediatamente l'impianto elettrico. Anche la situazione idrica non è da meno, il malfunzionamento dei bagni, ma fino ad arrivare anche al discorso dell'allargamento del cimitero. Il cimitero è in stato di abbandono perché ci sono le fontane rotte. Ci hanno detto che quando piove diventa ancora più difficoltoso poter passare per arrivare alla tomba. Sì, certo, perché forse non c'è canale per l'acqua, per scivolare e quindi dobbiamo camminare sull'acqua. L'amministrazione e la persona dell'assessore ai servizi cimiteriali Sarodagata stamattina ha effettuato un non sovraluogo rispondendo alle sollecitazioni dei consiglieri e garantendo interventi immediati. Da qui partire per gli interventi da effettuare con una certa sollecitudine per rendere ancora più vivibile quest'area cimiteriale, che è un'area cimiteriale tutto sommato da salvaguardare. Assessore, la visita di questa mattina pone l'accento su una questione ben più ampia, ossia l'attenzione all'amministrazione verso le periferie. Spesso i consiglieri di quartiere, che sono poi l'anello di congiunzione, dicono che l'amministrazione è poco presente nelle periferie. Come rispondiamo? Io personalmente, ma mi risulta anche tutti i miei colleghi, ogni volta veniamo sollecitati, interveniamo. Per quanto riguarda il cimitero di San Giovanni di Galermo è stato attenzionato. E restiamo a Catania per ascoltare la risposta del sindaco Enzo Bianco in merito ai disservizi legati alla scuola materna di Montepo. L'appello lo hanno lanciato ai nostri microfoni sia i genitori degli alunni della scuola materna Vittorino da Feltra, appoggiati al consigliere di quartiere Mascali, che è la dirigente dell'istituto. Serve un intervento urgente per eliminare tutte le erbacce del plesso di Via Vigo, nonché una disinfestazione urgente. Questo appello lo abbiamo girato questa mattina al sindaco che così ci ha risposto. E naturalmente hanno diritto queste persone ad avere un posto pulito e tranquillo. In questi giorni, per esempio, con le manutenzioni ho dato priorità alla sicurezza. Certamente mi occuperò anche dell'erba alta perché è giusto che sia così, fissando le priorità e tenendo conto che ho una bacchetta magica, ma anche la bacchetta magica non risolve immediatamente tutti i problemi della città. Salta il vertice Soaco e ancora per IMA infatti si dovrà attendere l'elezione del nuovo amministratore delegato della SAC che succederà ad Ornella Laneri, revocata per mancanza di requisiti. Sulla vicenda MTG parla Giuseppe Giannone, presidente della Camera di Commercio di Ragusa. Anche oggi inevitabile nulla di fatto per la riunione convocata per rinnovare i vertici della Soaco, società che gestisce l'aeroporto di Comiso. Prima sarà necessario che si chiariscano le vicende interne alla SAC, società che gestisce Fontana Rossa a Catania e che vanta una quota di maggioranza nella Soaco, il 65%, dopo la vicenda dell'amministratore delegato Ornella Laneri, revocata per mancanza dei requisiti. Per quanto riguarda la quota pubblica di Soaco, il 35% appartiene al comune di Comiso che per mezzo del suo sindaco potrà nominare uno consigliere e il presidente della società di gestione. Ed è proprio su questa figura che si concentra l'attenzione. Rosario Alescio, ex presidente Crias ed ex presidente Asi. Giovanni Occhipinti, vice presidente di Federalberghi Ragusa. L'ex deputato Salvo Zago, 66 anni, già sindaco di Comiso. Roberto Biscotto, fondatore del consorzio Multifidi. Questi i nomi dei papabili. Al momento sono solo frutto di rumors non confermati. Per quanto riguarda invece l'amministratore delegato, l'unica indiscrezione riguarda Giorgio Cappello di Confindustria. Il vincitore rispetto a questa vicenda rimane comunque Giuseppe Giannone, presidente della Camera di Commercio di Ragusa. Come amministratore delegato della SAC si torna a parlare di Nico Torrisi, proposta fatta proprio dalla Ragusano e poi bocciata. Avere Nico Torrisi ad amministratore delegato e siamo stati esclusi completamente, non è stato preso in considerazione e sono rimasto solo contro 7, 1 a 7. Ora 7 e 1 a 8 si faranno la proposta che ho fatto io, questo sembra che succederà. Giannone si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Ho votato contro perché io ho fatto una proposta e loro hanno votato contro la mia, perché io sono in carica democraticamente, io sono stato eletto secondo le regole che disciplinano l'essere socio. Il socio è la Camera di Commercio in cui consiglio elegge un presidente e questo presidente è in carica. le altre Camera di Commercio non sono così, sono commissariati, sono commissariati, nemmeno nominate. Stagione estiva 2016 da dimenticare per il centro storico di Ragusa, almeno per l'associazione dei commercianti in base ai dati. Sentiamo. Crollo delle vendite nel centro storico di Ragusa superiore, circa il 10-15% in meno, nonostante l'aumento delle presenze turistiche di circa il 20%. L'estate 2016 è stata un disastro per i commercianti della zona, a tracciare il bilancio LASCOM. Situazioni non favorevoli che sarebbero frutto della mancata concertazione tra l'amministrazione e l'associazione dei commercianti. Sono il presidente dell'associazione cittadina Salvo Ingallinera e Giovanni Cassarino, componente del direttivo, a lanciare accuse contro l'amministrazione di Palazzo dell'Aquila. Le attività economiche del centro di Ragusa non sono riuscite a cogliere in pieno l'aumento delle presenze dei turisti, che hanno preferito recarsi ad Ibla e a Marina di Ragusa. I due hanno snocciolato i dati relativi alle vendite dell'estate appena conclusa. Nel centro storico i commercianti hanno registrato e dichiarato in Gallinera un decremento delle vendite a causa della diminuzione delle presenze rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si parla anche delle criticità registrate, dal proliferare di episodi criminosi nel quadrilatero compreso tra piazza Matteotti, via Marioleggio, via Sant'Anne e via Giambattisto Dierna, episodi favoriti anche da una illuminazione inadeguata e ancora la mancanza di bagni pubblici, mentre le iniziative turistiche come spettacoli e manifestazioni sono state scarse e non coordinate. In controtendenza Ibla, in Gallinera afferma che si è registrato un incremento delle presenze turistiche par al 18% con andamento generale delle vendite in crescita. Celebrato il patrono della polizia San Michele Arcangelo oggi nell'omonima via e nell'omonima chiesa. Vediamo. E' stata celebrata oggi a Ragusa dalla Polizia di Stato la ricorrenza di San Michele Arcangelo. Il nemico di Satana, così come è ricordato negli scritti, è il patrono della Polizia di Stato che ogni anno non si sottrae dal ricordarlo e celebrarlo. Oggi agenti e dirigenti della Polizia di Stato si sono riuniti per celebrare il patrono nell'omonima chiesa. Presente anche una delegazione dei cavalieri templari. A celebrare la messa il vescovo della diocesi di Ragusa, Monsignor Carmelo Cottitta. L'arcangelo Michele è ricordato per aver difeso la fede in Dio contro gli inviati e incaricati di Satana. Michele infatti è ricordato e menzionato come comandante delle milizie celesti. Dapprima, accanto a Lucifero, nel rappresentare la coppia angelica, si è separato poi da Satana e dagli angeli che operarono per l'ascissione da Dio. Alla Santa Messa era presente, tra gli altri, il questore di Ragusa, Giuseppe Gammino. La nostra festa è religiosa e esprime questo momento di attenzione per il nostro patrono, ma è anche una festa che raccoglie le famiglie nel Family Day. Sono felice, dicevo, di essere qua perché questa realtà è viva, è pulsante per tutte le forze dell'ordine. Siamo coesi, siamo fra di noi abbastanza legati e lo dimostrano anche queste presenze che vengono confermate ogni anno di attenzione da parte degli invitati. Quindi una buona festa, una buona festa al personale alla Polizia di Stato, alle famiglie e un grazie a tutti gli amici, colleghi e quant'altro che sono qui a onorarci con la loro presenza. Era l'ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti da parte delle agenzie, pertanto vi rinnovo l'appuntamento delle 14.15 per il telegiornale di domani. Grazie per averci scelto e arrivederci alle prossime edizioni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS